Tanta gente si lamenta di vari aspetti nell'ambito della beauty di non considerare le emozioni che nascono quando svolgiamo il lavoro di abbellimento della persona. Lanciare questo messaggio a tutti quei professionisti appassionati che realizzano estensione dei capelli con il valore aggiunto della psicologia applicata al parrucchiere. Ma perché mi devo far allungamento dei capelli? Per raggiungere che cosa? Io credo che ci sia un pensiero comune nella donna, che i capelli lunghi rientrano in un immaginario collettivo e personale, bellezza, morbidezza e femminilità siano radicati profondamente dentro di noi. Raccontare che tipo di emozioni quando una persona si allunga i capelli. Qualche anno fa ho incontrato una mamma, di professione psicologa, specializzata per i giovani e non, alla costruzione dell'autostima personale. Ho realizzato l'allungamento a sua figlia una bellissima ragazza che nel momento che ha allungato i capelli, ho fatto iniziazione e rito dei capelli, ho parlato il significato profondo dell'allungamento dei capelli che non è solamente beauty o attaccare ciocche, ma è qualcosa di più. Uno strumento per migliorare gli aspetti della vita, nell'amore, nell'autorealizzazione personale, per migliorarsi. Incontrare questa persona specializzata nella psicologia mi ha affascinato, ho avuto lo stimolo di approfondire il tema, e le tecniche utilizzate per questo rito di allungare capelli, e raccontare questo fenomeno in questo libro. Da quando ho cominciato professionalmente ad allungare i capelli, la mia curiosità e passione in questo lavoro mi ha spinto ad amare il significato e l'emozione, che può dare questa tecnica. Nel momento che noi allunghiamo i capelli allunghiamo lo spazio vitale della persona e scoprire nuovi orizzonti della bellezza interiore. I capelli si estendono da 3000 anni in tanti modi in tante fogge, hanno sempre avuto un significato profondo anche religioso del prolungamento dell'anima e ci sono tantissime pubblicazioni di libri che parlano dell'argomento, da giovane ho seguito il ramo d'oro di Fraser Magia e Religione, ne parleremo nel capitolo Tabù di capelli tutte le credenze dell'uomo e quindi attraverso queste letture molto interessanti dal taglio dei capelli matriarcale che significa che solo le donne e solo le mamme. Potevano recidere i capelli senza buttarli nascondendolo in un posto sicuro dell'abitazione, proprio perché qualcuno di varia natura maghi e stregoni. Entriamo in un contesto un po' più particolare che non c'entra niente con il parrucchiere però è la fonte delle emozioni che noi proviamo tutti i giorni, non solamente con un allungamento dei capelli ma anche con altre tematiche che al primo approccio sembrerebbe esagerate. Questa teoria pratica è adeguata a quello che sto svolgendo da 40 anni, approfondiremo un pochino di più su questo volume nello spazio, il significato del volume per una persona. Noi non ce ne accorgiamo ma ogni volta che abbiamo una reazione nell'ambiente nel relazionarsi con le persone conosciute o sconosciute, prendiamo le sconosciute. Nel momento che noi conosciamo questa persona il nostro corpo si mette in autodifesa rizzando tutti i peli del corpo, non ce ne accorgiamo. I capelli per esempio come l'astronauta, Samantha Cristoforetti che abbiamo visto alla tv con questi capelli che fluttuano nello spazio, che acquistava volume. Il leone o un'altra animale rizza il suo pelo, come il cane come il gatto, anche noi abbiamo questo fenomeno e quindi nel momento che noi allunghiamo questi capelli si aumenta la forza di interagire, per esempio a livello lavorativo nel momento che io mi sento a mio agio con me stessa posso produrre molto di più di quello che non avrei potuto fare con uno stato vitale molto più basso, quindi le emozioni dei capelli possono essere uno strumento veramente interessante per migliorare la nostra vita.